Noi abbiamo in collegamento il sindaco di Casamiccio la Castagna. Buonasera sindaco, perché è importante questa proroga al 30 giugno? Sì, va bene. Innanzitutto le motivazioni sono molteplici. Una su tutte è il Covid, l'altra era dovuta perché sostanzialmente infatti si è avuta questa possibilità di poter avere il contributo anche sulla parte legittimata. Ricordiamo che noi fino a un mesetto fa circa questa cosa non era possibile, nel senso che si poteva ottenere contributo solo sulla parte legittima e non legittimata. Insomma, questa cosa finalmente è cambiata, è chiarita, quindi sono state anche fatte le dovute modifiche alle ordinanze emesse fino ad oggi dal commissario Schilati. e quindi ho ritenuto da un punto di vista proprio come opportunità di poter chiedere e quindi poi ottenere la proroga e la scadenza per la richiesta a danni lievi. Diciamo che è una cosa che appunto doveva essere fatta e quindi è stato fatto. Sindaco, invece la presenza del commissario nel prossimo consiglio come mai e soprattutto perché questo consiglio è molto importante anche per la comunità? Sì, in effetti è stata una richiesta già da tempo questa del commissario, anche se diciamo che giunge tardi, perché le cose che avevamo chiesto in consiglio comunale sono state già quasi tutte quante vase, non ultimo a quello che ho detto prima, per quanto riguarda la possibilità di ottenere, di essere chiarita, se c'è possibilità di ottenere i soldi, i contributi anche sulla parte legittimata. Poi c'era la questione sulla possibilità o meno di poter subito chiedere il contributo e se appunto c'era invece la necessità di attenzione e nell'ordinanza 7, diciamo anche questa è una novità, una novità tra virgolette molto importante, perché il commissario nell'ordinanza 7 ha disposto il comma 2, l'ha articolato in maniera diversa, appunto riportando proprio questa specifica, cioè gli interventi di ricostruzione privata dove sono immediatamente attuabili, autorizzabili, è chiaro che c'è possibilità appunto subito di partire. Questo è importante perché il commissario insieme all'ufficio tecnica Samiccio già da diversi mesi ha lavorato sul territorio andando a capire su una base di oltre mille fabbricati che hanno appunto esaminato sul posto, sui luoghi, quali erano i fabbricati che si potevano subito mettere nelle condizioni, quindi privati, cittadini per poter iniziare le opere di ricostruzione. Ebbene, questo dispositivo che cambia va a mutare il comma 2 dell'ordinanza 7, diciamo dell'articolo 1, mette in specifica proprio in evidenza questo concetto, lì dove l'intervento è immediatamente attuabile e anche autorizzabile, quindi c'è subito possibilità di poter chiedere il contributo. Ma l'ordinanza 7 bis che proprio stamattina è entrata in vigore porta anche un'altra novità molto importante che pur si era parlato in Consiglio Comunale, cioè la possibilità di poter essere esaminato in maniera preventiva e in massimo 30 giorni il livello operativo. Ricordo che l'ordinanza 7 praticamente parla di 4 livelli operativi, si va solo dal semplice manutenzione straordinaria al livello L4 che prevede la demolizione e la ricostruzione completa dell'intero fabbricato. E quindi con l'ordinanza 7, ma questo è successo anche in centro Italia, praticamente c'era possibilità che il tecnico chiamato dalla parte poteva arrivare a una conclusione che nella sostanza poteva poi anche andare non in linea con quelli che potevano essere i dettami dell'ordinanza stessa. Allora ecco che questa ordinanza 7 bis nella fattispecie dà la possibilità al cittadino di poter essere subito, ripeto, in massimo 30 giorni dichiarato il livello operativo e quindi accettato per poi proseguire nella progettazione. Quindi questo è un enorme passo avanti perché dà innanzitutto certezza e sicurezza al cittadino che in effetti deve necessariamente avviarsi in una non facile burocrazia, perché poi nella sostanza la paura del cittadino è proprio quella di mettersi in cammino su una strada dove poi potrebbe trovare degli ostacoli burocratici. Invece no, noi abbiamo chiesti e ottenuto la modifica del comma 2 dell'articolo 6 che prevede appunto la possibilità di avere in maniera preventiva e massimo, ripeto, in 30 giorni la possibilità di accettazione del livello operativo e quindi della fattibilità della ricostruzione del proprio fabbricato. Grazie, grazie al sindaco Castagna, buon proseguimento di serata. Va bene, buonasera, grazie.